un nuovo video tutorial mini firmato fabbiabrosi.it quest'oggi parleremo del chroma key come bucare il chroma con adobe after effect e lo vediamo in soli tre minuti iniziamo subito iniziamo da una composizione completamente vuota prendiamo l'immagine girata in chroma importante le immagini girate in chroma devono essere di ottima qualità noi purtroppo qui oggi non abbiamo il materiale per lavorare bene siamo in quarantena come tutti quindi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto ma per farvi capire i problemi che dovete evitare i soggetti in chroma non devono avere queste queste macchie di colore provenienti dai riflessi del chroma key in altre parole il soggetto deve essere completamente staccato dallo sfondo fatto questo andiamo nel pannello del controllo effetti tasto destro con il vostro mouse andiamo al menu tipi di trasparenza e scegliamo la voce key light 1.2 ecco qua questo questo effetto ha diverse opzioni con cui lavorare iniziamo con la prima e più importante che è quella per lo screen color ovvero scegliamo il colore che ne vogliamo rimuovere clicchiamo e abbiamo campionato il blu seconda cosa da fare è modificare lo screen view da final result a screen matt perché in questo modo possiamo vedere quello che è bucato rispetto a quello che invece è solido in altre parole tutto quello che è nero è trasparente tutto quello che è bianco invece è solido noi vogliamo che lo sfondo sia nero e il soggetto chiaramente sia bianco scegliamo il menu screen matt aumentiamo lo di clip black per rimuovere il bianco dal dallo sfondo attenzione però a non esagerare altrimenti chiaramente il risultato non è proprio quello che noi vorremmo ok facciamo la stessa cosa diminuiamo il clip white per rimuovere il nero dal soggetto facciamo qualche altra piccola modifica screen death spot black in altre parole questo parametro ci permette di rimuovere gli spot quindi le macchie dal nostro soggetto che deve essere completamente bianco se a questo punto tornassi nella modalità final result vedrei uno sfondo completamente bucato è un soggetto completamente solido posso scegliere a questo punto di inserire uno sfondo custom ecco qui abbiamo applicato la nostra prima il nostro prima croma croma key grazie per aver seguito anche questo mini tutorial firmato fabbiambrosi.it vi invito ad iscrivervi a questo canale youtube e ad accendere le notifiche c'è anche la pagina facebook se avete voglia fabbiambrosi ci vediamo online e al prossimo video tutorial ciao